Tornano questa sera alle 21.30 le attività presso l'Eschilo Lab. Teatro, musica, cinema, arte, mostre, sport, incontri letterari e cooking show attendono il pubblico nella Corte del Teatro di Gela di Piazza Salandra con ingresso gratuito. C'è un aspetto interessante che non è avvenuto negli altri anni ed è quello di dare valore e visibilità agli artisti locali che ne abbiamo tantissimi e di alto livello. devono solo esibirsi, farsi conoscere e inizierà questo tipo di approccio che veramente mi piace moltissimo, che l'abbiano pensato. Durerà sino a metà di settembre questo tipo di approccio e dopo riprenderà con artisti conosciuti in ambito nazionale. È possibile che chiunque ancora possa proporsi per dare il suo contributo e farsi conoscere alla città. La Corte del Teatro Eschilo verrà aperto al pubblico che potrà passare delle piacevoli serate estive ma non sarà solo musica, sarà anche mostre, cultura, sport. Saranno soprattutto gli artisti locali ad esibirsi che potranno così avere la possibilità di farsi conoscere dal pubblico gelese. e c'è spazio ancora per altri gruppi, per solisti che vorrebbero partecipare a queste serate. Iniziamo già con un nome di fama internazionale, forse noi non lo conosciamo, Aldo Nove, è lo pseudonimo, con un libro che è stato pubblicato proprio il 12 maggio. È un tipo di letteratura che forse noi non conosciamo, a cui non siamo abituati, ma è un libro che veramente fa molto riflettere. Per rappresentarlo sarà Viviana Altamore e ci saranno letture da parte di Maria Carla Aldisio. Si proseguirà il 17 con camicette bianche di Ester Rizzo, un altro tema molto importante, il tema dell'emigrazione italiana in America. E poi il mese di giugno ancora avremo il 24 Enzo Russo, il grande scrittore Enzo Russo, con Incomprensibile Sicilia. Invece chiuderemo non venerdì ma giovedì per motivi tecnici con la presentazione del libro di due nostri ragazzi, per me sono ragazzi, Lorena Scimera e Andrea Cassisi, a cui auguro di diventare famosi magari quasi come Camilleri, ma il nome di Camilleri già ha fatto sì che questo libro sia la ribalta nazionale. Spero soprattutto che questa possibilità sia colta dai ragazzi, dai giovani. Non si dica poi qui a Gela non c'è niente, perché questi incontri letterari sono quelli che avvengono in tutte le città d'Italia e nel mondo, che ne approfittino.